La passione di conoscere quello che è proprio intorno a me, quello che vado 5 minuti fuori nella valle sotto, di scoprire lì i miei vicini di casa, che sia un tasso, una martola, una volpe, qualunque cosa, quello che ti dicevo mi dà gioia, mi rassicura, mi affascina, sono curioso, sono attratto di questo.